Quindi gli adolescenti che vanno incontro a una vera tempesta ormonale di solito hanno queste facce piene di foruncoloni. Poi se trovano un bravo medico che le consiglia a seguire un'alimentazione corretta improvvisamente sparisce l'acne o i foruncoli. Improvvisamente spariscono. Poi uno si rimette a rimangiare dei latticini e ricompare l'acne il che credo che prova più scientifica di rimuovere la causa e si vede che effetto c'è e poi reinserire di nuovo l'alimento e vedere che effetto c'è questo credo che sia la prova, altro che le prove che vengano fatte nei laboratori. Questa è la vera prova scientifica. La sperimentazione su noi stessi. Sì, sperimentare. Va bene, allora visto che lei ci ha gentilmente... Comunque sulla fertilità è veramente incredibile. E questo un appunto lo devo fare alla Chiesa Cattolica, al Vaticano, perché il Vaticano si è indignato molto, se l'è presa molto per il fatto che sia stato assegnato il premio Nobel a Robert Edwards, però al Vaticano si deve svegliare. Non deve dire che non va bene dare a Edwards questo premio Nobel per la storia della fecondazione che apre le porte, chissà che manipolazioni. Che si facciano forti, che tutti i loro centri di sperimentazione che hanno, che provino a vedere che in esso c'è tra infertilità, infertilità e uso dei latticini. La fecondazione in vitro sparirebbe. Sparirebbe perché gli esseri umani risolverebbero i loro problemi, anche perché con quel tipo di fecondazione i risultati sono sotto il 20%, quindi non sono dei risultati incredibili. E purtroppo le donne ne pagano le conseguenze anche più pesanti, perché proprio il bombardamento ormonale qui vengono spesso sottoposte e anche lo stress psicologico, la sofferenza a cui vanno incontro. Ma anche per i maschi, perché adesso che sta aumentando molto l'infertilità o la sterilità dei maschi, dietro c'è al 90% l'uso del latte e i derivati del latte. Il discorso di tutte quelle disfunzioni a livello di spermatozoi, o che ce ne sono pochi, o che sono poco mobili, o che non hanno la testa, o che non hanno la coda. Allora, al di là dei casi dove proprio non c'è della zoospermia totale, dove manca totalmente gli spermatozoi, il discorso dell'infertilità maschile può essere risolto benissimo con un'alimentazione sana, corretta e soprattutto senza latte. Va bene, io non vorrei liquidare così brutalmente il latte, però ne abbiamo già dette abbastanza. Se eventualmente qualcuno di voi volesse riprendere l'argomento con le telefonate, e ci fate veramente un grosso favore. Ma siccome la lista dei luoghi comuni è veramente lunghissima, io vorrei richiamare all'ordine il dottor Piero. Ad esempio, lei è un forte produttore di mele. Nell'incontro che abbiamo fatto sulle mogliate... No, ma è stato quest'anno, quest'anno che chissà dopo l'inverno tremendo le mele. Infatti, stiamo ancora raccogliendole adesso. Eravate pieni e ho visto che è arrivato anche con una cassetta per noi. E sono proprio mele naturali e che infatti le vedete sono di varie dimensioni, ma non solo. Sono di vari generi. Cioè di solito, sui banchi di frutta si trovano sempre pochissime qualità. Invece la natura ne ha in serbo tantissime. Sì, poi quando avevamo messo queste piante... Ma hanno un gusto e una forma diversa. Sì, decisamente. E un profumo diversa. Il profumo è... Magari non sono perfette, ma sono veramente buone e profumate. Ma infatti, ma sono piante che saranno più di dieci anni che non vedono nessunissimo trattamento. Ma di nessun tipo. Lei ci ha anche spiegato che sono persino buone anche quando sono marce le mele. Ah sì, sì. Basta spremerle e viene un succo che non... Sono più dolci. Sono dolcissime. Basta che non abbiano la muffa grigia dentro, sono di una dolcezza. Si possono consumare per tutto l'inverno. Senta, dottor Motti. Eh, ma c'è il luogo comune anche con la mele. Ah, è un luogo comune che una mela al giorno toglie il medico d'intorno. Una mela al giorno toglie il medico d'intorno. È un luogo comune perché ci sono, sì, le persone a cui puoi fare molto bene. Ad esempio, le persone di gruppo B e AB generalmente con le mele ci vanno a nozze. Le persone di gruppo A c'è chi ci va bene e chi non ci va mica tanto bene. Magari con le mele cotte se la cavano meglio. Le persone di gruppo 0 sono a loro rischio. Ad esempio, in questo periodo non ne potevo fare a meno perché quando andavamo a raccoglierle, quando ce n'era qualcuna caduta ma di bella stramatura, ecco, mi portavo dietro il coltellino, me la mangiavo e poi alla fine mi sentivo i dolori articolari. Perché le persone di gruppo 0, ecco, con il fruttosio ci devono stare molto molto all'occhio. Quindi ecco, il problema delle mele è un po' comune a tutta la frutta, di cui ci si dice dovremmo fare un largo consumo perché la frutta è viva in sostanza, ci dovrebbe regalare un sacco di vitamine e tutti siamo convinti che la frutta ci faccia bene. Eh sì, questo è un luogo comune perché se osserviamo ciò che accade in natura, la frutta c'è in un periodo abbastanza limitato dell'anno. Comincia quando la stagione comincia a riscaldarsi, ossia arrivano le prime fragoline, arrivano le ciliegie, le marene, i vari cespugli, i ribes così che producono i loro frutti, poi si termina appunto, c'è il culmine dell'estate con i frutti molto zuccherini, le pesche, le prugne, gli erbicocchi, i fichi, l'uva e poi arriva l'autunno con i cachi, con le mele e le pere e poi basta, poi l'inverno niente. Non siamo ai tropici, qua siamo in una fascia climatica, sì temperata però con gli inverni molto rigidi dove è meglio mangiare dei radicchi d'estate, dell'averzo, dei porio, delle barbabietole rosse invece che cedere con la frutta. Quindi il problema della frutta è il fruttoso, questo zucchero naturale che la frutta contiene. Sì, esatto, ma infatti non è un caso adesso riprendendo, riprendendo... Guardi che lei si tira la zappa sui piedi, lei che è un produttore di mele a dire queste cose. Sì, ma infatti io ritengo che una persona deve essere sempre corretta, deve essere sempre... e anteporre l'interesse generale all'interesse particolare, tanto queste mele sono buone, buonissime, le daremo via, le sbologneremo via, ne regaleremo via tante, non è un problema. Ma credo che sia molto meglio informare le persone, soprattutto quelli di gruppo zero che se mangiano molta frutta ci lasciano le articolazioni. Adesso il discorso, tanto per dire riprendendo trasmissioni passate che abbiamo fatto sullo sport e anche interventi... Ha visto che c'è uno dei suoi fratelli Inzaghi che si è fatto male? Sì, ebbè, Pippi Inzaghi, sì, si è rotto... Eh ma adesso sono già molto più rotti dell'anno scorso e sì che non ha fatto un grande freddo. Ci sono oramai squadre, squadre, la Roma ha subito dei grossi danni, la Juventus dei grossissimi... sì, tanti calciatori, anche l'Inter, ma anche... Oramai le squadre italiane sono decimate e la causa principale è proprio derivata dal fatto che hanno messo in atto la cosiddetta zona, quella del dottor Barry Sears, dove quello demonizza lo zucchero comune bianco, il saccarosio, dicendo con un altissimo indice, e consiglia a tutti quanti di prendere il fruttosio, tutti hanno boccato, tutti si sono messi a usare gli integratori con dentro il fruttosio, i dolcificanti, il fruttosio, e ci lasciano le articolazioni, i tendini, i fassi muscolari, e che così le squadre italiane saranno come sta succedendo... Ma le vitamine da dove le prendiamo allora, se non le prendiamo dalla frutta? Le vitamine dalla verdura, dalla verdura, dai semi oleosi, dalla carne, dal pesce, dalle uova. Ecco, io Piero volevo introdurre una cosa. Le verdure, tra verdura e frutta, decisamente meglio. La vitamina C, la vitamina C che conta, non si prende dalle arance, è qua l'altro luogo comune. Prima le abbiamo viste le arance, ma chi non si è fatto, non si fa volentieri una bella spremuta, Gianni, eh, d'aranci in questo periodo? Sì. Un bel bicchiere di vitamina C? Io volevo dirti una cosa, perché interesserà sicuramente i telespettatori. Allora, frutta e verdura, indubbiamente fanno bene. Però, la cultura della grande distribuzione si ha scollegati dalle stagioni. Adesso noi vogliamo frutta e verdura in tutte le stagioni. Esatto. Fra un po' arriveranno anche le angurie natalizie e cose di questo genere. No, ci sono le ciliegia natale, perché nell'altra parte dell'emisfero, in Cile, ci sono le angurie. Quindi questa è la prima grande operazione. Comporta qualcosa. Lo staccarsi dall'andamento della natura. Sì. Pu di avere quel frutto. Perché la natura prevede che in base alle varie stagioni, in base ai periodi, ai periodi climatici, ci sono gli elementi giusti, adatti, adeguati a quel periodo lì. D'inverno, se noi andiamo in giro, non troviamo neanche le foglie sulle piante. Non le troviamo. Però se andiamo a vedere in un orto, vediamo che i porri resistono benissimo. Le verze resistono benissimo. L'inverno scorso che sono venute caterve di neve, ma quando si è sciolta la neve, è andata via la neve, sotto la neve si hanno conservati benissimo i cavoli cappuccia, le verze, i porri e anche le barbabietole rosse. Infatti, uno dei piatti tipici delle fasce climatiche fredde, come la Russia e l'est dell'Europa, il borsi, ad esempio, è questo minestrone con dentro cipolla, porro, sedano, carote, barbabietole rosse e pezzi di carne, proprio per resistere a quelle temperature lì. Perché mangiando un alimento di quel tipo lì, poi, bisognerebbe che ognuno ci metta la carne adatta e adeguata ai suoi sistemi immunitari. Perché se una persona mangia la carne che non è adatta, poi si trova ad avere dei grossi problemi. Però il borsi è un alimento che da secoli, nelle zone fredde della Russia e della Siberia, fanno borsi. Si, si, è una zuppa di raddura. Buono, buonissimo talato. È un minestrone fatto con barbabietola rosse. Vorrei ricordare...